Ok, grazie a tutti è molto bello vedere comunque 20 persone collegate vuol dire che comunque il gruppo c'è e l'argomento comunque è un argomento abbastanza delicato io mi presento un attimo sono Vincenzo Raimondo, ho 44 anni abito in Toscana ma non sono toscano sono Africa del Nord, dico sempre io sono napoletano abito in Toscana da 22 anni ormai siamo metà anni in Campania e metà anni in Toscana sono laureato in informatica ormai tanti anni fa e ho subito lavorato già dagli anni dell'università e questo mi ha permesso di fare un pochino tutta la gavetta quindi da sviluppatore ho gestito la parte di B facevo sia la parte front-end che la parte back-end fino poi sono arrivato agli ultimi anni dove nelle mie ultime esperienze sono passato a fare il team leader il team leader tecnico poi a un certo punto chiaramente non ero più aggiornatissimo dal punto di vista tecnico quindi il team leader lo faceva un'altra persona e poi sono arrivato a fare il project manager stasera vi racconto quello che ho iniziato a vedere più o meno quattro anni fa per poi avere maggiore consapevolezza le dei proghi in ambienti critici nelle ultime due esperienze di lavoro che vi racconto stasera quindi per questo motivo non farò un talk molto tecnico ma sarà un talk che spero che vi possa lasciare degli spunti prima mi dicevano che la platea è soprattutto Dev quindi dove potrò sicuramente non mi tirerò indietro a rispondere a le domande ma visto che la platea è Dev vorrei verso la fine avere da voi un vostro punto di vista perché chiaramente si parla ormai di team dove le competenze sono veramente distribuite ognuno fa il suo e correttamente ognuno fa il suo però poi alla fine il goal lo devono fare tutti tutti insieme in questo momento sono in Lascaux da due anni e in particolare in questo momento da un anno a questa parte mi occupo di cyber security un mondo che per me era veramente sconosciuto e mi ha aperto un mondo quindi quello che vi vado a raccontare stasera è l'esperienza che ho fino a un anno fa dove ho deciso di intraprendere la strada della cyber security allora mi è capitato di gestire un team di persone dove il deploy era veramente critico era veramente critico perché perché quando mettevamo in produzione il software era un'architettura comunque a microservizi con un'app con tre app un sito web la parte back end e la parte chiaramente anche DB la prima volta mi è capitato di vedere un carico di sei milioni di visite nel giro di un'ora non mi era mai capitato e in questa struttura è la prima volta che ho visto la presenza di un release manager quindi di una persona che si occupava di coordinare i vari fornitori di software perché non era un solo team ma c'erano più team che chiaramente dovevano parlare tra loro dovevano dire i loro pro e i loro contro e il release manager doveva poi bollare il rilascio in produzione quindi facendo un attimino parlando proprio della fase di deploy io dico sempre agli sviluppatori che nel momento in cui mettiamo in produzione forse è lì che inizia il vero il vero lavoro perché perché in quel momento noi abbiamo tutti gli occhi tutti gli occhi su di noi e in particolare c'è chiaramente una parte business della dell'azienda o comunque del cliente che ci ha ci ha commissionato questo sviluppo e quindi se andiamo online con qualcosa che non va bene cosa può succedere a me sono successe tutte e tre queste cose ovvero l'utilizzatore che perde la fiducia perché magari il business aveva fatto una anche una una comunicazione che usciva una nuova funzionalità dell'app e poi siamo andati su e la nuova funzionalità non reggeva quindi abbiamo perso fiducia nell'utilizzatore contemporaneamente abbiamo perso fiducia in chi ci ha commissionato il lavoro e contemporaneamente nascono delle escalation che arrivano fino chiaramente al capo dell'IT sollevate dal capo del business e quindi diciamo così noi veniamo il team di sviluppo o i team di sviluppo vengono messi un po' in cattiva luce andiamo a vedere come poter diminuire questa cattiva luce ed essere sicuri che quando facciamo un deploy dopo ci possiamo andare a prendere una birra insieme quindi vi dicevo dei release manager che non è una funzione che non è non esce dall'università non ci sono lauree in release management e quindi ci sono persone che si avvicinano a questa a questa a questa secondo me è una vera una professione a tutti gli effetti perché perché deve comprendere il rischio del rilascio quindi deve comprendere cosa stiamo rilasciando ne deve comprendere il rischio lo deve saper gestire quindi deve capire quali magari i reparti aziendali verranno coinvolti da questo rilascio se ha competenze tecniche chiaramente è meglio come secondo me anche il PM oggi non si può parlare di un PM IT che non abbia competenze tecniche però in questo caso il rischio manager deve avere anche competenze manageriali perché perché deve parlare anche con il business dell'azienda ma oltre a parlare con il business dell'azienda deve anche sfruttare una come dire una alta skill di problem solving perché questo perché all'interno di un rilascio in un ambiente critico e supponiamo di andare in sprint agile c'è un momento preciso che questa azienda chiamava il momento del go no go go no go ovvero il momento in cui i release manager avendo tutti i team leader intorno al tavolo e avendo anche il business intorno al tavolo cerca di comprendere il rischio comprendere quello che stavamo rilasciando comprendere se tutti i test erano fatti e poi bollare la soluzione per andare in produzione quindi era la prima volta che vedevo questa figura che sicuramente aiutava tutti aiutava il business aiutava lo sviluppo quindi come vi dicevo io sono sempre dell'idea che con il deploy inizia il vero lavoro perché perché in quel momento la nostra applicazione il nostro pezzo di codice verrà utilizzato veramente e non verrà utilizzato prima faccio A poi faccio B poi faccio C l'utilizzatore potrebbe andare direttamente a C saltare A saltare B quindi avere una utilizzo del software non lineare quindi non come eventualmente l'UX se l'ha immaginato non come noi l'abbiamo provato non come il tester l'ha provato quindi potrebbe avere utilizzi più più vaghi l'altra cosa importante è le performance e il carico perché ci possono anche essere test di carico ci possono anche essere tutta la batteria di test ma supponete che è un nuovo software non abbiamo l'idea ce lo possiamo soltanto immaginare un carico dell'applicazione ma non abbiamo dati storici che ci possano dire quando meglio fare il deploy come come organizzare il deploy quante macchine abbiamo a disposizione quante macchine dobbiamo avere a disposizione quanta RAM quanta CPU come il front end parla con il back end se ci sono dei bilanciatori di mezzo quindi le performance in test capite bene che è veramente difficile si possono soltanto simulare e poi come vi dicevo prima c'è un'aspettativa cioè noi facciamo una promessa tutti i team quando fanno il rilascio fanno una promessa ovvero dobbiamo portare di produzione questo ovviamente nel momento in cui facciamo una una promessa le aspettative si alzano e soprattutto la cosa che veramente ho imparato in questa esperienza che non si può tornare indietro cioè non possiamo rollback e fare finta di nulla perché perché in un ambiente critico ci sono tanti utenti che stanno che potrebbero stare potrebbero stare aspettando quella funzionalità da tanto tempo solo per dirvi non voglio nascondere quello che vi sto raccontando è l'esperienza che ho fatto in quella società dove noi abbiamo quel cosettino grigio in macchina e si paga il pedaggio ok non faccio nomi ma penso che l'avete capita ok io ho sempre organizzato uno sprint in questo modo ovviamente ci possono essere sprint di 15 giorni di un mese a volte anche di più dipende poi dal dall'ambito ma ho sempre nel momento in cui gestisco un team fatto questa differenzazione c'è una parte di sviluppo c'è una parte di test che chiaramente potrebbe anche avere delle intersezioni con lo sviluppo non è detto che deve essere soprattutto alla fine soprattutto quando si parla di architetture magari a micro servizi ma poi c'è una grossa fase di non regression ovvero quel momento in cui andiamo a definire con il business in generale vengono definiti con il business quali sono i test case che devono essere provati prima di quella famosa data go no go quindi di quel famoso incontro dove noi dichiariamo se effettivamente tutti i test sono stati fatti ovviamente in quel caso lì c'era proprio ci sono i team di sviluppo e c'è proprio un team di test con il team leader ovviamente il testing veniva fatto anche in automatico ma mi sentite sempre vero? datemi un cenno perché mi è arrivato con connessione si si ti sentiamo ok i test possono essere fatti ovviamente molto in automatico ma poi ci possono ma poi a volte i non regression test quindi i flussi principali no? la registrazione il carrello un acquisto magari in un e-commerce la ricerca ci sono dei posti come dire dei use case che sono quelli che devono sempre funzionare ovviamente sapete bene se sono tutti dev che è importante perché avendo ovviamente turn over a livello di sviluppo ci sta che lui junior doveva fare una una banale funzionalità magari ha aggiunto una colonna vi vi faccio questo esempio c'era una query posizionale orrore e questo junior aveva cambiato l'ordine di una colonna aveva smandruppato il database aveva cambiato l'ordine il suo test funzionava ma da un'altra parte c'era questa query posizionale che non funzionava più quella query funzionale era la query che andava a chiedere all'identity management la tabella degli utenti quindi lui aveva fatto un pezzettino aveva scassato tutto quindi il non regression lì se ne accorge ovviamente non possiamo mettere nel non regression tutto quindi vanno identificati col business vanno identificati col business quali sono quelle funzionalità che devono sempre funzionare chiaramente il team leader deve anche sottolineare nel momento in cui sta sviluppando una particolare future se quella future magari ha visto una una un recupero di debito tecnico su una funzionalità e quindi una parte del codice è stato rivisto e magari va a impattare anche altre cose ok quindi in quel momento lì è ben è ben come dire è buona regola dichiararlo in fase di sviluppo magari mettere un task per il tester dove dice quando provi questa prova anche quest'altra cosa bene nel momento in cui organizzavo il team ok mi sono trovato in grossa realtà dove ci chiedevamo cosa succede post rilascio quindi stiamo rilasciando abbiamo fatto un rilascio che può essere automatizzato o manuale ok con il monolite era più facile andare in una in un deploy automatico con architettura microservizi con più team che hanno sviluppato non non sempre si riesce ad andare in deploy automatico ma cosa facciamo quindi c'è una fase di rilascio che è quella arancione e poi io tenevo sott'occhio le 24 ore e le 48 ore ok in questo periodo chiaramente io strutturavo il team in modo tale che il team leader quindi che aveva più o meno sapeva più o meno dove eravamo andati a impattare insieme a il team leader dei tester possibilmente con due persone senior il giorno dopo il rilascio non faceva altro che guardare i log di produzione perché perché magari non c'è uno schianto a video ma c'è un log che ti fa notare che c'è un abbassamento di performance quindi i log sono da guardare nelle 48 ore nelle 24 durante il rilascio subito dopo il rilascio durante le 24 ore durante le 48 ore chiaramente noi facevamo un rilascio con tutte le pagine di cortesia le pagine di cortesia venivano messe pubbliche ma alcuni P chiaramente venivano le applicazioni erano accessibili quindi dopo il rilascio durante il rilascio c'erano anche i tester che rifacevano in produzione i test book della non regression subito e poi andavano a fare un po' di testing con account propri sulle altre funzionalità in quel momento lo sviluppo la persona che è di sviluppo guarda i log guarda scusatemi guarda i log questo terminata la fase di rilascio nelle 24 ore successive mettevamo delle sonde nei punti principali banalmente c'era una c'era una query che veniva schedulata e veniva lanciata ogni 10 minuti per capire per esempio se arrivavano degli ordini o arrivavano dei nuovi clienti e poi ovviamente venivano messe delle query ad hoc sulle funzionalità principali che abbiamo sviluppato in query luscio supponiamo che ci accorgiamo di un errore chiaramente c'è il bug fixing c'è un bug fixing a volte anche molto caldo e dicevo quindi una operazione a cuore aperto e chiaramente deve essere coordinata da il team leader e chiaramente in quel momento magari non la deve fare lo sviluppatore che ha sviluppato quel bug ma magari con lui e con il senior developer in modo tale da fargli anche capire quella cosa magari come poteva essere fatta prima non c'è nulla di drammatico sinceramente lo dico da vecchio sviluppatore avere un bug in produzione perché perché gli ambienti sono differenti perché le basi dati sono differenti perché il carico è differente ma la gestione del codice corretta con gli ambienti corretti ti permette di fare un bug fixing veramente a caldo in che senso allora in questa società c'era chiaramente l'ambiente di sviluppo l'ambiente di collaudo l'ambiente di quality e l'ambiente di produzione secondo me probabilmente dipende poi dagli ambienti gli ambienti grossi vi garantisco che questi quattro ambienti servono perché vi faccio degli esempi facendo uno sprint ok quindi lavorando in uno sprint sicuramente l'ambiente di sviluppo non è un ambiente fermo è un ambiente dove le persone committano in continuazione l'ambiente di collaudo in quel momento in cui sto sviluppando è un ambiente abbastanza fermo dove c'è l'ultima release quindi nel momento in cui sto sviluppando e mi rendo conto che una future è consolidata ok io la posso mettere in collaudo quindi faccio un rilascio in collaudo soltanto di quel pezzettino lì e il tester magari può iniziare a testare esempio un banale microservizio lui lo può testare con con altri strumenti ma lo fa in collaudo dove c'è un ambiente fermo quindi dallo sviluppo in collaudo o metto pochi pezzi consistenti oppure mi rilascio una finestra magari di un giorno dove io prendo tutto il codice che sviluppo e lo deployo in collaudo il tester lavora in ambiente di collaudo è ovvio che se abbiamo un'architettura microservizi dove abbiamo varie app che devono parlare chiaramente gli ambiti devono essere tutti coordinati e qui c'è un altro grosso buco ovvero come gestiscono gli ambienti i vari team che magari sono anche di società fornitrici differenti però concentrandoci su di noi l'ambiente di collaudo è un ambiente abbastanza fino nel momento in cui tutto il tester tutto il test finisce dall'ambiente di collaudo si passa in ambiente di quality qual è la differenza tra un ambiente di sviluppo e un ambiente di quality che il quality a livello di macchine quindi a livello di web server a livello di versioni del web server a livello anche di patching delle macchine è molto simile alla produzione ma soprattutto molte volte magari non spessissimo viene travasato il database di produzione sul database di quality per avere sul database un volume di dati importante chiaramente i dati molte volte vengono anonimizzati nei dati principali quelli che hanno a che fare con l'utente quindi lo sviluppo va in collaudo poi va in quality sul quality vengono rifatti i test soprattutto il regression test e poi ce l'ha messa in produzione andiamo in produzione e ci rendiamo conto che c'è un bug fix e contemporaneamente però magari lo sviluppo è andato avanti col prossimo sprint quindi l'ambiente di sviluppo e l'ambiente di collaudo non possono essere più utilizzati quindi cosa si fa si stacca dalla si stacca un branch dalla produzione si fa lo sviluppo di quel branch di quel bug fixing si deploya in quality si ritesta e si riporta in produzione nel momento in cui questo è andato allora tu vai verso l'indietro per mergiare quello che hai portato in produzione negli ambienti precedenti credo che tutto sommato questi quattro ambienti possono essere utili per come per come un ambiente in un ambiente critico può avere necessità di avere quattro ambienti separati ok l'altra cosa che ho notato essere molto utile è quello qualora chiaramente il team ce lo permette di avere una divisione di persone un team change che segue lo sviluppo quindi lo sviluppo di nuove funzionalità è un team run che si occupa soprattutto nella fase di post rilascio di guardare l'applicazione in produzione nell'ultima esperienza la cosa interessante che ho fatto è far ruotare le persone tra change e run perché perché la persona perché di base ho sempre sostenuto che una persona che fa sviluppo quindi che è nel team di change ha delle scadenze ha un piano di lavoro e quello che deve fare è non bucare il piano di lavoro e andare a scrivere codice veramente di qualità la persona del run invece che sente la pressione della produzione la pressione del business deve essere una persona efficace ed efficiente quindi magari può fare interventi su database magari può fare back fixing in produzione quindi non se la può prendere con calma deve fare interventi puntuali magari mette una pezza e per poi quella pezza togliere quindi toglierla facendo magari ricontrollare il codice a change ma deve intervenire ok il run è il pronto soccorso siccome come capite le persone uno ha tempi come dire ha una scadenza lavora di qualità l'altro invece la scadenza è la pressione molte volte il carattere delle persone può essere un carattere più da change un carattere più da run ma la rotazione del team permette a chi sviluppa il codice in change di capire quanta merda può fare in produzione e quindi capire quale difficoltà può avere il suo collega in produzione quando fa run gestire questa rotazione permette di essere allineati sulle peculiarità che il codice deve avere prima di andare in produzione chiaramente cambia da ambiente a ambiente questo ok 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 change considerate io avevo un team di 15 persone e più o meno mi giocavo 10 persone in change sì diciamo sì che di queste 15 persone io avevo due team leader un team leader di frontend e un team leader di backend che non consideravo pienamente nello sviluppo ok consideravo 20% di sviluppo nel suo tempo e 80% di controllo del codice per il programming analisi magari insieme all'analista funzionale coordinamento con i tester quindi era un team leader un pochino ibrido quindi in queste 15 persone avevo due persone che venivano lasciate fuori che era il team leader tecnico di backend e di frontend poi c'avevo 10 persone nel change e 3 persone nel run quindi in questa struttura grande enfasi prende il piano di rilasci ovvero lavorando io lavoravo cioè lavoro molto con Gira e molto collegamento con Confluence strutturavo quindi da PM insieme ai team leader e insieme al product owner il rilascio quindi prendevo dal backlog mettevo nello sprint per ogni sprint c'era la user story che veniva aperta dal PO la user story veniva riguardata da me e dal team leader e venivano aperti i vari task sotto primo tip and tricks all'interno della user story che è consistente quindi deve avere una sua consistenza venivano aperti anche task dev per gli altri team e venivano messi all'interno di Gira il collegamento tra i task quindi il task che bloccava un altro task e così via quindi un po' di un po' di gerarchia all'interno di queste facevo facevo obbligavo gli sviluppatori ad aprire un task che era DB and configurazioni d'ambiente lì dentro ci mettevo la query SQL che doveva come dire tutte le modifiche a il database che dovevano essere fatte e quali erano magari le variabili d'ambiente che noi dovevamo portare in produzione questo perché perché così non ce le dimentichiamo e perché così all'interno del piano di rilascio era ben chiaro cosa doveva essere fatto prima del rilascio del codice ok considerate chiaramente che molte cose venivano automatizzate con degli script ma chiaramente dovevano avere un suo ordine immaginate per esempio una variabile d'ambiente che indica indica il puntamento verso un servizio esterno quindi io nella mia user story avevo cosa doveva partire per primo cosa veniva per secondo cosa veniva per terzo e poi un task dove c'erano tutte le configurazioni infatti è il secondo punto anche delle configurazioni ogni user story magari era all'interno di quella che io chiamavo deliverable ovvero quindi tutto un pezzo che magari faceva parte di tutto un pezzo di codice che veniva rilasciato che dentro aveva più user story così facendo poi all'interno della pagina confluence facevo delle query per sprint quindi avevo nella pagina confluence la pagina di rilascio dove dicevo quali sono tutti i deploy tutti i deliverable che venivano rilasciati e poi potevo aprire per far vedere ai release manager tutte le user story che venivano rilasciate in fondo a seconda di tutto quello che veniva rilasciato c'era una scaletta di rilascio quindi immaginate prima c'era lo script su database la configurazione dell'ambiente il rilascio del back end il rilascio del middle layer il rilascio magari dell'API gateway e poi il rilascio del front end così facevo proprio una scaletta precisa in un rilascio del 31 luglio del 2000 31 luglio 2020 il rilascio è partito alle 8 la sera e finito alle 3 la mattina perché contemporaneamente c'era anche rilascio della fatturazione rilascio di ambienti esterni tipo Cerved chi ha che fare con finanza quindi a volte i rilasci erano veramente molto grossi e c'erano tanti team di sviluppo avere questa scaletta ok permetteva di avere ben chiaro chi doveva fare cosa e quali erano gli impatti del giorno dopo in fondo a questa scaletta mettevamo tutti i test book collegati con l'esito ok o non ok e ovviamente lì mettevamo anche la lista dei test book di regression test quindi in modo tale che quando vado in produzione quali sono le prime cose che vengono che vengono che vengono testate infine segnavamo in basso a seconda dei deliverable che andavamo a deliberare quali erano le unità aziendali che venivano impattate ovvero se c'era una modifica sull'SDD ok dovevamo subito andare a controllare il giorno dopo o dopo due tre giorni se i flussi erano arrivati se c'erano degli spostamenti dati il giorno dopo qual era qual era l'entità aziendale che si doveva preoccupare per vedere se i flussi erano entrati quindi era un piano di rilascio molto molto complesso ok quindi come vedete per arrivare a un piano di rilascio dettagliato e ben fatto ok dobbiamo guardarci indietro molte volte lo sprint deve essere organizzato bene al fine di avere un deploy in ambiente critico controllato vi riporto alcuni punti che magari ho già trattato ma ma li 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 risottolineo perché secondo me l'inizio dello sprint è la parte fondamentale allora è chiaro che nel momento in cui c'è un pm o c'è uno un po che definisce lo sprint ok non può definire soltanto lo sprint per un team ma deve ma deve mettere dentro lo sprint tutti i team quindi ci deve essere una board unica devono essere identificate bene le milestone e soprattutto molte volte non viene fatto un documento architetturale della soluzione che stiamo andando a deployare vi faccio un esempio dovevamo mandare dei gli aggiornamenti a tutti i clienti perché nella base dati avevamo documenti di identità scaduti quindi doveva partire la query in produzione che portava giù i clienti da contattare poi c'era uno script che doveva girare poi a quello script c'era un link che mandava il rilascio di una funzionalità sull'app poi c'era durante questo piccolo funnel c'era una chiamata a un'entità terza poi c'era il caricamento del documento ok quindi l'aggiornamento del documento quindi dati anagrafici inseriti a mano caricamento del documento verifica finale tutto questo veniva mandato tramite un API gateway a un primo layer questo layer il giorno dopo c'era degli utenti di customer care che dovevano verificare che effettivamente il documento era leggibile e il documento caricato era uguale al dato che l'utente aveva inserito nel form dopodiché c'era quindi c'era questa fase di validazione se non era ok veniva veniva mandato indietro e ripartiva lo sprint per inviare l'email al cliente per ricaricare il documento altrimenti andava avanti tutto questo tutto questo processo deve essere documentato perché nel momento in cui si parlano più team e più strutture arrivano i cazzi amari non passa il flusso di chi è la colpa se c'è un documento architetturale condiviso da tutti ognuno sa il suo pezzettino dove può impattare chi può impattare questo a chi serve? serve anche al testing perché il testing deve essere approfondito faccio un'altra piccola deviazione non ho mai visto un team di tester come quello che mi è capitato nell'ultima esperienza vi faccio un esempio visto che siete molti sviluppatori sicuramente mi capirete allora frontend app frontend sito api gateway backend database sullo strato del backend architettura a microservizio quindi il singolo micro microservizio il team di test prima testava il microservizio con dati a volte sbagliati con utente autenticato quindi con il token quando il microservizio era ok allora richiamava il microservizio dall'API gateway perché sull'API gateway doveva essere mappato il microservizio quando anche dall'API gateway in fondo al database arrivavano dati corretti iniziava a provare l'app dopo aver provato l'API se tutto va bene provava l'altro quindi faceva proprio un testing mirato e non provo dall'API al database ma lavoravano al contrario quindi dal database verso l'API quando arrivavano sull'API erano sicuri che il microservizio funzionava e se c'era qualcosa che non andava era lo strato di metodo di come venivano passati i dati quindi un testing molto approfondito come avevo detto anche prima c'erano questi famosi test di regressione ripeto use case particolari concepiti con il business delle funzionalità principali che non si devono rompere bene quindi come capite tutto questo non può essere fatto se il team non è strutturato e dove c'è magari un PM tecnico dove ci sono dei team leader dove ci sono degli analisti funzionali che magari sono tecnici e magari dove c'è anche un team di test ben strutturato ma quali possono essere le best practice a livello proprio di deploy allora molte volte viene fatta la prototipazione solo di una piccola parte e invece no deve essere prototipato tutto il flusso e quando dico prototipato tutto il flusso dico anche servizi moccati quindi non posso partire alla fine nel provare un servizio non ce la fai fammelo moccato così intanto lo sviluppo può andare avanti quindi quando io intendevo quando io intendo prototipazione intendo prototipare tutto il flusso e far arrivare magari dati fassuli su database ma con un prototipo che non è solo bottone accendi bottone accendi no voglio voglio vedere un po' di passaggio di informazione l'altra cosa fondamentale quando viene aperta una nuova funzionalità supponiamo che il business dice primo gennaio 2023 parte questa nuova funzionalità bene non aspettiamo il primo gennaio 2023 per finire quella funzionalità se è possibile la rilasciamo uno sprint prima che quindi chiaramente voi potete dire dipende dal team di sviluppo e dal carico è ovvio ma nel momento in cui la vado ad aprire qualche mese prima la apro a family and friends ovvero noi c'era l'ammisatore delegato il cfo che avevano tutti ovviamente l'account e provavano quella funzionalità ovviamente per fare questo per aprire il deploy in family and friends chiaramente anche l'applicazione deve essere strutturata per poter fare questo come avevamo fatto avevamo chiaramente una mappa come dire l'ho vista fare in due modi questa cosa ovviamente c'era ho mappa su mappa su db quindi c'era una tabella dove con il codice cliente io identificavo che codici clienti che dovevano avere questa funzionalità nuova quindi la mappa arrivava all'app ok la mappa delle funzionalità arrivava all'app da il back end e quindi vedevano questo 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 pulsante in più chiaramente quando questa tabella era vuota il pulsante lo vedevano tutti quindi questo permetteva anche di fare un rilascio aperto a tutti cambiando soltanto configurazioni a livello di database oppure utilizzavamo molto non si chiama ma si chiama mi viene un servizio esterno contentful un servizio esterno dove non mettevamo soltanto i contenuti testuali in genere viene fatto per mettere i contenuti testuali ma anche siccome è è un servizio dove tu puoi strutturare quasi un database quindi un'entità con 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 varie colonne la login interrogava contentful con il codice cliente e otteneva la mappa oppure l'altra cosa che ho visto fare molto interessante aprire la nuova funzionalità a particolari ore del giorno quindi non quando c'è il carico ok quindi non non alle otto la mattina o quando devono scaricare le fatture ma magari magari la sera aprendo a tutti quindi potevo provare la platea in alcune ore del giorno l'altra cosa interessante è avere un login attivabile a caldo ovvero avere la possibilità di alzare il livello di logging senza rideploare l'app qui ci sono qui ci sono alcuni alcuni modi per farlo ma essenzialmente viene fatto noi lo facevamo a livello di API gateway quindi lì alzavamo delle configurazioni in modo tale da loggare magari tutta la request e tutta la response e poi mettevamo praticamente il classico ID passatevi termine ID di sessione ma non era un ID di sessione era un ID più di transazione e seguevamo quell'ID tra i vari microservizi quando si passavano il dato quindi loggavamo tutto sinceramente loggavamo su database in modo tale da poter fare delle query oppure oltre a database loggavamo anche su ambienti esterni dove facevamo arrivare tutto il log ovviamente con con delle dashboard e con delle query quindi anche questo aiutava molto il deploy l'altra cosa interessante è verificare la bontà dei dati cioè molte volte uno si concentra su non c'è lo schianto bene ma dobbiamo anche andare a vedere la bontà dei dati a me è capitato che era scappata ok era una tabella nuova erano delle tabelle organizzate male ok e una colonna testuale era praticamente non memorizzava bene il dato arrivava null ok quindi il dato non veniva proprio passato indietro è chiaro che se me ne accorgo i primi giorni dopo il rilascio le 12 ore le 24 ore posso fare un bug fix ma non me ne posso accorgere dopo una settimana perché ormai quei dati li ho persi per fortuna avevamo loggato tutto nella request ma non vi dico è stato un bagno di sangue poter fare prendere tutte le request e fare poi dell'insert a manetta quindi la verifica della bontà dei dati va fatta subito dopo il rilascio bene altra piccola sottolineatura dove mi permette di fare un po' di differenza quando andiamo a deployare un nuovo software e quando andiamo a deployare una delle nuove funzionalità un nuovo software dove devo dove devo stare attento devo stare attento a milestone ben definite ok e concordate con tutti i team non fare il rilascione grosso ma fare dei rilasci continui quindi come dire in un certo senso congelare il codice man mano che nei vari rilasci non come dire posso rilasciare dei microservizi in produzione anche se non usati ma vado a buttare fuori roba perché mi permette di fare log e fixing frequenti quando invece ci sono nuove funzionalità ok la cosa che devo fare come come vi ho sempre detto ma per me è veramente diventato un must dopo questa esperienza la regressione quindi attenzione alla regressione quando vado a fare nuove funzionalità attenzione all'integrazione tra i servizi vabbè guarda per questo servizio puoi utilizzare questo servizio per come dire scusatemi per questo servizio del middleware puoi utilizzare questo servizio che scrive su quella tabella sì ma quel servizio tu non gli puoi cambiare la firma questo molte volte sviluppatori junior non hanno ben idea dove andare a mettere le mani quindi attenzione all'integrazione e chiaramente come ho detto nell'ultima slide attenzione ai dati che vengono scritti ok l'altra in un certo senso l'intervento mio finiva con la slide 12 era più o meno calibrato in un'ora quindi datemi un secondino per vedere un attimo se ho dimenticato qualcosa dagli appunti però tutto sommato penso di aver trattato tutto ok ok no io ho 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 trattato tutti i punti che volevo trattare quindi se volete possiamo interrompere la la presentazione e aprire un dibattito che volevo che volevo